guidare ti fa sentire libero niente più bus affollati la mattina niente più genitori che ti aspettano fuori niente più pioggia finito l'allenamento ma non è tutto rosa e fiori ci sono limiti e regole pensati per proteggerci perché in fondo essere liberi significa anche questo rispettare la libertà degli altri scegliamo di essere responsabili contribuire a una strada più sicura è qualcosa che dobbiamo prima di tutto a noi stessi e puoi farlo anche tu partecipa a un'altra strada challenge realizzando messaggi di prevenzione efficaci e creativi e sì, anche i meme vanno bene con la tua classe potrai vincere un'opportunità di crescita per te e i tuoi compagni e fondi da investire nella tua scuola accetta la sfida grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti